Ciao Francesca Mangia Tordi dal pronto soccorso, hai la situazione posti letto per caso o niente proprio ciao? Ciao dal pronto soccorso, mi dici situazione posti per favore? niente grazie, ci sono 0 0 0 posti no 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 adesso ti udiamo le mani dal disco, non devi tenerla vedi se nella sala d'attesa del 3 c'è posto allora tra un'ora un posto si libera in ginecologia però tra un'ora perché hanno fatto un decesso e quindi aspettano la polizia sì sì covid ormai le tux sono tutte uguali praticamente e tutte brutte a 35 anni è giovane e quindi lo ricoveriamo sicuramente visto che c'è la possibilità purtroppo devo scegliere tra lui e uno di 85 anni da ricoverare e tra il 35enne per forza che stiamo facendo da un mese praticamente ho iniziato a dire a mio marito io vado io vado però anche lui aveva paura a mandarmi qua abbiamo tre bambine piccole insomma mi ha detto lì c'è pieno di contagi così alla fine sono venuta adesso la dottoressa mi ha detto non so se ho il virus però mi ha detto che ho un inizio di polmonite e speriamo che vada bene ho sentito dire che quelli che per disgrazia che non ce la fanno sono sempre anziani io ho 30 anni e sono giovane spero dai spero vedi però ho paura tanto faccia un bel spiro e tenga dentro l'aria come? cosa dici te che c'ho tre bambine? di me la verità? tre bambine? eh non lo so eh ma sono con te cioè certo no nel senso cioè che sono grave o? no io non te lo so dire perché però dico ok ti do una bottiglietta d'acqua così bene chiara ti passi papà cucciola ti amo grazie ascolta dove sei? eh vai giù un attimo sì sì ha detto che non è bella e allora non si sa sebastia non lo sa detto adesso gliela ho mandato il radiologo e ho detto però l'ho vista non è bella non sono sebastia non lo sa dai non direi niente avanti le bambine chapter Ciao, ciao, ciao. Insomma, è bella stesa, sì. Parte qui è praticamente polmone, tutto con polmonite. Non più funzionante, cioè... Non ci sono poi dubbi che non sia positivo il test. Questa ha 30 anni, sana quindi, cioè i vecchi anziani ormai non è più una cosa vera. 6, 5, 2, 4... Ciao, scusami dal pronto soccorso, c'è un posto donna? Eh, al pot, c'è una ragazza da trasferire al pot. Eh, al pot, c'è una ragazza da trasferire al pot. Grazie a tutti